come avete sentito in viva voce la polizia è partita in questo momento era già in autostrada all'attesa dell'autogrill per cui arriverà i due minuti ecco qui l'arrivo delle forze dell'ordine non ha grosse indicazioni dalla centrale operativa se non che si tratta dell'incidente stradale con più auto coinvolte a 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 numero dei soccorrettori a disposizione numero di ambulanze che possono evacuare i malati evacuare i malati perché non sono più feriti se niente di malati di a 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 senza pausa è a 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